professore professore è arrivato il padrone sento puzza di prigione insomma si può sapere cosa ci fate qui a quest'ora e come siete entrati io il negozio lo apro alle 7 e 30 mi sembra orario questa non ci voleva gioia pensaci tu ma salve bell'uomo io personalmente sono venuta apposta apposta per lei lo sa la cosa che amico più di lei è proprio questo cappellino e a mia moglie non gli piace ma no lo sa con questo cappellino io quasi quasi di dare anche un bacio sì ma comunque noi siamo qui perché dobbiamo fare una grossa ma grossa rapina e ci servirebbero delle tronchesi del lanciafiamme delle torce siamo già anche molto in ritardo a lune 25 ci aspetta il furgone vicino la banca a lune 25 sì a lune 25 precisa io vi aiuto io non vi preoccupate cos'è questo sirico non va bene questo ti do quello buono brava gioia mi stavo eccitando anch'io professore il proprietario è stato corrotto abbiamo fatto il botto bene prendete tutto il materiale e recatevi alla banca il furgone vi aspetta fuori a lune 25 precise e 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 palo all'1 e 23 puoi partire col furgone luna e 23 1 2 3 e 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 un anno fantastica auguri auguri e e e e e e